La Mercedes-Benz classe E station wagon è stata presentata da poco e in questo servizio Eugenio Blasetti ci parla di questa nuova vettura della casa tedesca di Stoccarda. Siamo qui alla presentazione della nuova classe E station wagon, che è una grande tradizione per Mercedes-Benz, pensate che quest'anno cade il cinquantenario, perché nel 1966 Mercedes lanciava sul codine addirittura la prima station wagon, ma la prima ad avere un grande successo è stata la station wagon degli anni 80, quindi la 250 e la 200 di Mercedes, che fece 340.000 macchine in tutto il mondo, poi c'è stata la 4 fari degli anni 90, poi la 211 e la 212 e oggi siamo all'ultima generazione, che è la classe E che ha cambiato un po' la logica delle station wagon, perché lo spazio disponibile è sempre tanto, ma si riduce leggermente, a vantaggio dello stile, perché questa è una station wagon molto più sportiva, molto più dinamica rispetto al modello precedente. Dal punto di vista delle motorizzazioni c'è un salto in avanti enorme, perché questa macchina consuma il 20% di meno rispetto alla concorrenza. Dal punto di vista dei dati freddi sono che questa macchina nel consumo combinato fa 25,4 chilometri con un litro, ma in realtà oggi mi diceva il noleggiatore che ci ha portato qui, con questa nuova macchina con un pieno fa 1000 chilometri, mentre con il modello precedente che già consumava poco ne faceva 800, per darvi la quantificazione reale di quello che è l'abbattimento del consumo. E poi dal punto di vista delle prestazioni questo motore passa da il 220d, passa da 170 cavalli a 195 cavalli, quindi non soltanto il consumo si riduce, ma aumentano notevolmente le prestazioni. Con un motore che è dal punto di vista tecnologico una vera e propria chicca, è il primo motore diesel tutto in alluminio con i pistoni in acciaio che gli consentono di reggere l'enorme pressione dell'ultima versione del diesel common rail. con tutta una serie poi di accorgimenti tecnici che fanno sì che un motore così abbia la durata che ci si aspetta da un motore Mercedes. Dal punto di vista dell'innovazione questa macchina è un passo in avanti verso quella che potrà essere la guida autonoma, che oggi è una guida assistita, è come avere una sorta di angelo custode accanto a noi che si accorge se ci stiamo distraendo ed interviene. Ed oggi, l'hanno detto le ricerche, dopo tanti anni di patente appunti gli incidenti stavano calando e stanno ritornando su perché noi ci distraiamo alla guida per gli smartphone, magari rispondiamo un messaggio o vogliamo mandarlo e non ci accorgiamo che la macchina sta andando verso una direzione da noi non voluta. Ecco, questi sistemi di Mercedes fanno proprio questo, stanno lì e si accorgono che noi stiamo facendo qualcosa di scorretto ed intervengono. Pensate che il regolatore di velocità di questa macchina ha il radar e le telecamere e non soltanto gestisce la velocità e frena se vede una macchina che rallenta davanti a noi o si frappone davanti a noi, ma addirittura segue il traffico, quindi guarda le linee per terra, guarda i guardrail e guarda le macchine e le segue come se fosse uno sciame. È un'esperienza incredibile che è interessante provare, ma per farvi capire come questa macchina nel momento in cui serva possa fare una frenata panica in maniera assolutamente autonoma o nel caso che voi effettuate uno scarto d'emergenza, beh in quel momento gestisce la macchina ed impedisce che voi perdiate il controllo in una manovra così repentina e così panica. Dal punto di vista degli allestimenti questa macchina parte dalla versione executive soltanto per la 200 diesel, per la versione d'ingresso, ma poi la versione che sarà la versione d'ingresso per tutti quanti la modalizzazione sarà la versione sport, che è molto ben equipaggiata, parliamo di fari a led, cerchi in lega a 17 pollici, rivestimenti interni in misto pelle sintetica e tessuto, i sistemi telematici sono pronti già per il navigatore, basterà inserire una scheda che è possibile comprare in qualsiasi momento per avere il navigatore pronto, poi la versione AMG line che è la più amata dagli italiani con l'allestimento tecnico e optional di AMG dal punto di vista della caratterizzazione estetica e dinamica e poi il top di gamma che è la versione premium plus con tutto ciò che è possibile desiderare su quest'automobile. Le motorizzazioni, partiamo da un diesel di nuova generazione, 150 CV, 1950 cc di cilindrata per un prezzo di circa 50 mila Euro, per poi passare al 220D da 195 CV che sarà sicuramente il motore più venduto in Italia.